Buongiorno, bentrovati a Spunti e Spuntini. Parliamo oggi, come spesso facciamo, di vaccini. Ovviamente anche tutto quello che è vicino all'argomento, che alla fine è l'argomento della pandemia, che coinvolge anche i settori del lavoro, ma anche i settori delle previsioni, che prevedono ovviamente dei sviluppi per il futuro. Lo facciamo in compagnia di Silvia Russo, che è la segretaria della CISL, e in collegamento Sara Albiani di Oxfam, una nostra concittadina che però sta facendo un lavoro ormai a livello internazionale. Abbiamo visto anche protagonista di reportage internazionali nelle reti pubbliche, quindi questo ha dimostrazione che anche da Arezzo arrivano dei fortissimi contributi alla ricerca, soprattutto per quanto riguarda il caso di Sara, sulla distribuzione dei vaccini anche nei paesi più poveri, che ormai è il tema, anche uno dei temi principali, anche dopo l'ennesima variante, la variante Omicron. Ma partiamo subito da Silvia, parlando, intanto apriamo e chiudiamo con te una parentesi, prima di passare a Sara, che la ringrazio di essere in collegamento. Arriviamo subito da te, però ci tenevo, prima di parlare di vaccini, di chiarire che cosa sta succedendo all'interno del sindacato, delle tre sigle che più o meno sono sempre state d'accordo in questi ultimi anni. Oggi invece la CISL ha deciso di non scendere in piazza e ovviamente anche la CISL di Arezzo. Certo, abbiamo pensato che rispetto alla situazione di carattere generale, la nostra segreteria nazionale, il nostro segretario generale, ma anche noi, tutti noi, abbiamo tante questioni in campo, un momento come questo a nostro parere difficilmente potrebbe prevedere non tanto scendere in piazza, perché scendere in piazza l'abbiamo fatto e lo faremo un'altra volta anche noi, ma fare uno sciopero di carattere generale lo riteniamo in questo momento fuori luogo. Tanto più che rispetto alla manovra finanziaria abbiamo ottenuto moltissimo rispetto a quelle che erano le condizioni iniziali. Ovviamente non tutto, ci sono ancora tante questioni che dovremo esaminare, ma abbiamo ottenuto anche dei tavoli che poi si apriranno subito a inizio anno. Penso al tavolo sulle pensioni, quindi ad una riforma complessiva delle pensioni che si aprirà a gennaio, penso al tavolo sulla riforma fiscale che comunque si aprirà non appena sarà passato questo momento della finanziaria. Quindi sono tavoli importanti che prevedono anche una tensione sociale di un certo livello, ma sicuramente per quanto ci riguarda non uno sciopero di carattere generale. Bene, ritorniamo tra poco sull'argomento sindacato. Sara, intanto lasciami esprimere la soddisfazione per quello che è successo in questi ultimi giorni, ovvero la liberazione di Patrick Zaki, rimangono ancora su di lui le accuse. Ci sarà ovviamente un dibattimento, però Patrick è tornato a casa e questo credo che sia un sentimento di gioia per tutti noi italiani che abbiamo sostenuto questa causa, sempre attraverso l'Università di Bologna, attraverso le organizzazioni non governative come Oxfam. Sì, assolutamente. È una grandissima notizia che aspettavamo da molto. È chiaro che ancora, come dicevi, è sotto processo, quindi è incriminato. Dobbiamo assolutamente quindi sostenere tutto il suo iter e fare in modo che il governo italiano continua ad operarsi perché la situazione si risolva in modo ottimale. Per adesso sicuramente siamo molto felici che Patrick finalmente sia tornato. Senti Sara, ti stai occupando ormai da tempo. Già lo scorso anno a Spunti e Spuntini abbiamo parlato molte volte di quello che sta succedendo a livello globale sulla distribuzione dei vaccini. Quando ne parlavamo ancora il vaccino Covid era appena entrato nei paesi occidentali, definiamoli così, e in Africa, ad esempio, come in altre parti dell'Asia, insomma in altri paesi che non hanno spesso vaccini neanche di altro genere, ma ora anche quello Covid scarseggia. Cosa sta succedendo e cosa è cambiato? Purtroppo è cambiato molto poco, nel senso che al momento i paesi a basso reddito, quindi i paesi più poveri, hanno una percentuale intorno al 3% di persone vaccinate con il ciclo completo, quindi con due dosi per i vaccini che richiedono due dosi, mentre nei paesi più ricchi siamo intorno all'immedia al 66%, nel caso dell'Italia siamo ovviamente su percentuali molto più alte, quindi permane una fortissima disuguaglianza nell'accesso ai vaccini, che non è un problema appunto solo così nostro come UNG, che ovviamente mettiamo al centro del nostro lavoro la giustizia e l'uguaglianza, è proprio un problema di salute pubblica e lo abbiamo visto proprio in queste ultime settimane, perché lasciare il virus circolare liberamente in grande parte del mondo significa dare al virus la possibilità di mutare e quindi di affermarsi anche con varianti che sono potenzialmente pericolosi come la Omicron, ancora ovviamente sull'Omicron non abbiamo dei dati certi, quindi non sappiamo se buca i vaccini, come si dice tecnicamente, quindi se rischia di rendere inefficaci i vaccini, però sicuramente ci può un dato di attenzione, cioè che se non riusciamo a contenere la circolazione del virus in tutto il mondo, rischiamo di ritrovarcelo in casa con varianti che possono vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto anche nei nostri paesi a livello di campagna vaccinale, ma anche a livello di sacrifici economici, sociali che abbiamo dovuto affrontare quasi negli ultimi due anni a fronte della pandemia. Sara, ovviamente questo dipende da tanti fattori, anche da quello che è sulla liberalizzazione dei brevetti, ma anche questo basterebbe fino a un certo punto, perché comunque creare l'industria per coprire la produzione dei vaccini non è così semplice? Allora, la liberalizzazione dei brevetti è il primo passo, è la condizione sine qua nonna, nel senso che se le imprese di tutto il mondo non hanno il diritto di produrre quei vaccini, è chiaro che non abbiamo neanche il punto di partenza, neanche la possibilità che le aziende farmaceutiche sparse per il mondo in grado di farlo possano produrre quel vaccino, poi è chiaro che insieme al diritto di produrlo, quindi al brevetto, a quella che possiamo chiamare la ricetta, gli ingredienti, è necessario che le case farmaceutiche che detengono questi brevetti condividano anche la tecnologia e il know-how, cioè di fatto è importante che le imprese sparse per il mondo che sono in grado di farlo non abbiano solo gli ingredienti, quindi la ricetta, ma sappiano anche come mettere insieme, quali sono le tecnologie, gli strumenti, le modalità per mettere insieme questi ingredienti per creare il vaccino, quindi con liberalizzazione dei brevetti, condivisione di tecnologie e know-how, molte industrie sparse per il mondo anche nei paesi a medio e basso reddito potrebbero essere in grado di produrre quei vaccini, non dimentichiamoci che il grosso dell'industria farmaceutica, per esempio dei farmaci generici, non è nei nostri paesi occidentali, è in India, è in Sudafrica, ci sono delle grossissime aziende farmaceutiche in Indonesia, in Vietnam, anche in alcuni paesi africani che producono dei farmaci e anche dei vaccini, quindi tutto sta a dargli la possibilità di farlo, il diritto di farlo, i brevetti e la tecnologia per poter avviare una produzione e quindi incrementare il numero di dosi a disposizione, che sono pochissime, noi consideriamo che al momento ci sono dosi disponibili in Africa subsahariana a vaccinare una persona su 8, quindi veramente dei numeri bassissimi, quindi il problema è innanzitutto un problema di disponibilità delle dosi di vaccino e poi ovviamente c'è il tema dei prezzi, perché i prezzi sono molto alti al momento, perché sono dettati dalle case farmaceutiche che detengono il monopolio e quindi hanno il potere di stabilire dei prezzi veramente molto alti. È chiaro che se avessimo un numero più ampio di imprese, di aziende farmaceutiche in grado di produrre quei vaccini, anche i prezzi diminuirebbero, quindi i paesi più in difficoltà avrebbero la possibilità di acquistare vaccini. Sebbia noi ci permettiamo in Italia di fare scorte e ovviamente anche di non farlo il vaccino, insomma l'argomento è ovviamente un argomento tosto perché ormai sembra che ci sia una parte della popolazione che proprio non si vuole vaccinare, tu sei venuta qui direttamente dal lab che per la terza dose. Che cosa si pensa all'interno del sindacato e cosa pensi tu anche personalmente? Allora, all'interno del sindacato noi siamo stati subito e questo tutti insieme d'accordo con il fatto che il vaccino fosse l'unico mezzo per poter aiutare a superare il periodo di pandemia. Ovviamente noi la pensiamo esattamente come ha detto prima Sara Albiani, cioè non è una questione che riguarda soltanto il nostro paese, è una questione che riguarda tutto il mondo perché qui i muri non possono fare niente, non costruiamo muri in questo senso, la pandemia non li conosce e dobbiamo essere così talmente previdenti da fare in modo che il vaccino sia un bene per tutti, un bene anche per quelle popolazioni che purtroppo non possono permetterselo. Se non facciamo questo scatto ulteriore e anche raggiungere cifre importanti nel nostro territorio serve sì sul momento ma non servirà per il prossimo futuro. Quindi occorre davvero che i governi in questo senso abbiano un respiro diverso, un respiro internazionale per poter permettere a tutti di poterci vaccinare. Anche perché proprio anche facendo un ragionamento semplicemente di tipo economico, essendo l'economia mondiale ormai fluida e interconnessa, non possiamo pensare ai sovranismi nazionali, non è proprio il momento e non serve a nulla perché non possiamo proteggere la nostra nazione soltanto pensando all'interno del nostro territorio e della nostra popolazione. Quindi anche per il mondo del lavoro è importante il vaccino ed è importante che il vaccino sia fatto in tutto il mondo. Anche quando sentiamo il Papa che fa le sue giuste osservazioni non sono osservazioni soltanto di carattere morale o teologico o legate ad un certo tipo di religione. Sono ragionamenti di livello alto internazionale che pensano che la popolazione mondiale si salva tutta insieme e quindi dobbiamo fare uno sforzo in questo senso proprio come diceva Sara Albiani. Bene, noi andiamo in pausa, ci rivediamo tra pochissimo con Sara Albiani e Silvia Russo. A tra poco.